Risposio con vergognosa fronte. Oh, degli alti poeti, onore e l'illuminio! Pagami un lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo il tuo volume! Rimmedere le stelle è il racconto della Divina Commedia. È uno spettacolo che mette in scena i diavoli e Beatrice, il conto Ugolino e Santa Lucia. Caronte, altri grandi personaggi di Dante, interpretati, fatti vivere da Piero Pelù, che non si limita a leggere. Lui interpreta, lui diventa Virgilio, Caronte, i diavoli. Insomma, poi i diavoli gli vengono naturali. Vedi la bestia per cui io mi volsi? Aiutami da lei, famoso saggio, che la mi fa tremare le vene e i polsi! Il conviente nere altro viaggio, rispose. Vuoi che il lacrimar mi vide? Se vuoi campare, testo loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. E io racconto dall'inizio alla fine della Divina Commedia cercando di farla vivere e di portarla nel presente, perché Dante è vivo, non è morto 700 anni fa. I suoi sentimenti sono i nostri sentimenti, i suoi personaggi sono vivi e i peccati di cui parla sono i nostri peccati. Lasciate ogni speranza o voi che entrate.